Nei miei eventi abbiamo comprato casa e abbiamo iniziato un processo di ristrutturazione completa sfruttando il bonus 110 e il bonus 50%. In questo canale commentiamo il tutto, se volete vedere il risultato finale ricordatevi di iscrivervi e accendere la campanella. In questo video vi facciamo l'unboxing della rubinetteria che abbiamo comprato per la nostra casa. Io sono Mattiana, io sono Marco e lui è Cesare. Tutti i prodotti che vedete in questo video sono stati acquistati da Amazon, TeleShop e da Urban & Mail. Se volete dare un'occhiata vi lasciamo i video qua sotto in descrizione. Rifacciamo intanto una panoramica di come è fatto il bando per capire poi le rubinetterie che abbiamo scelto. Quindi a terra ci sarà un pavimento in effetto regno color nero molto chiaro, mentre in Parigi ci saranno delle mattonelle del effetto marco con le penature di bronzo. Poi abbiamo il mochi e il pavimento che sono posto da un pianino rovere e da cassettoni e colonna bianca lattata. E poi il sanitario che sono invece di ceramica bianca lucida. Quindi abbiamo scelto una beneteria molto minima che fosse semplice, lineare e pulita. Per quanto riguarda il colore abbiamo scelto il colore acciaio e inox, però considerate che abbiamo comprato la beneteria molto tempo fa. Se avessimo comprato la beneteria invece più di recente, quindi in corso d'opera, probabilmente avremmo scelto un colore nero opaco, perché si avvinerebbe a dei particolari, perché abbiamo scelto un colore nero per l'appunto, all'interno del bando, come ad esempio il profilo del vetro e della dosa, piuttosto che la fornice dell'ospetto. Tuttavia ormai abbiamo comprato acciaio inox e va benissimo così. Voi di cosa preferireste? Acciaio inox o colore nero opaco? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Partiamo dalla beneteria del bagno. Però rimaniti fino alla fine perché vi facciamo vedere l'ultima picca, ovvero l'iscelata della cucina che è bellissimo. È il riscidatore dei nostri sogni. Sì. Per quanto riguarda il bagno abbiamo scelto la linea della raccuzzi. La marca raccuzzi linea d'acqua. Cosa ti devo dire? Dai, per quanto riguarda il bagno abbiamo scelto i miei. Per il bagno abbiamo scelto la linea GAN della marca Iacuzzi. Vai a prenderla. La prendo e la metto qua. Vi diciamo comunque che inizialmente volevamo scegliere un'altra linea sempre della marca Iacuzzi. Adesso non lo ricordo, ve la lasciamo un punto qui sotto nei link. Vi faccio vedere la foto qui. Eccole lì. Era molto bella, molto più minima. L'unico problema è che il miscelatore del lavabo aveva l'apertura dal basso e noi avendo il lavabo d'appoggio sarebbe stato difficoltoso raggiungere. Ma quindi abbiamo portato per quest'altra linea invece l'apertura dall'alto. Iniziamo a farvele vedere. Ecco come si presentano gli rubiniti che abbiamo scelto. Questo è quello del pitè e questo è quello del lavabo. Vi specificiamo l'alto questi che ci sono arrivati inizialmente con un difetto sulla cronatura. Quindi questa parte qua era un po' ossidata. In ogni caso abbiamo contattato l'assistenza di Daily Shop e sono stati assolutamente perfetti perché nel giro di una settimana ci sono arrivati come voi, nuovi anzi, cioè... Mi piacciono? Questo è il miscelatore della doccia, sempre nella stessa linea Grandi Chiapuzzi che è composto dal miscelatore che consente di sbizzare tra il soffione e il telefono della doccia. Ecco, scusami da così. E questa invece è la parte che consente di sbizzare, consente di sbizzare, consente di sbizzare, consente di sbizzare tra acqua calda e acqua fritta. Sempre collegato a questa parte che vi ho fatto vedere, c'è il vero e proprio telefono, che è questo qui. Beh, faccio almeno di aprirlo dalla plastica, comunque lo vedete, è molto semplice, con qua la parte dove esce l'acqua. E questo è il suo tubo. Sì, per questo lì? Sì. Questo è il palo che tiene fermo il soffione. Eccolo qua, sempre nella stessa linea Grandi Chiapuzzi, semplicemente così. Questo è di 40 centimetri, giusto? 40 centimetri? Sì. Sì, perché il soffione è di 35 se non ricordo male. E quindi per avere un po' di scarto, insomma, dalla doccia. Che bello! Allora, non ho bisogno di fare la doccia sotto questo soffione. Ma non ho bisogno di scarto? L'abbiamo scelto tondo, in realtà c'è stata una discussione se scegliono... Scegliono... Ma... Se scegliono tondo oppure quadrato. E alla fine abbiamo usato per il tondo, perché ci sembrava di avere comunque tutta la domenetteria un po' tondeggianta, quindi ci sembrava più linea, ecco. Secondo voi sarebbe stato meglio quadrato? Scrivetecelo qua sotto nei commenti. Ultimo pezzo della domenetteria che vi facciamo vedere, che in realtà abbiamo dovuto farvi vedere prima, è il pezzo che va sotto il lavandino. Cioè il sifone, si chiama così? Sifone. Il sifone basso perché permette di stare molto vicino al piano del lavandino e in modo da non essere visto molto facilmente. Perché praticamente il nostro mobile del lavabo, andate a vedere il video se non l'avete ancora fatto, è composto da un piano in rovere e poi due cassettoni. Tra l'uno e l'altro c'è uno spacco di mezzo, quindi abbiamo scelto questo sifone in stile basso, in modo tale da poter poi apposare sulla vincola dei cassettoni, delle cesti o comunque utilizzarle come stivaggio, come posto di stivaggio. Dai che vogliono vedere proprio dalla cucina! Allora, i nostri ordini sono stati fatti sia su Amazon che su Daddy, perché alcuni di questi prodotti non erano disponibili sul sito o sull'agro, però su Daddy sicuramente abbiamo comprato questo strumento. Stupendo! Allora sappiate, questa è una cosa intima che vi raccontavo, che noi puliamo la doccia normalmente nella casa dove siamo adesso due volte a settimana più o meno, quindi non passiamo il vetro ogni volta che ci facciamo la doccia. Dovremmo invece nella casa nuova essere molto più accurati, perché abbiamo scelto i vetro di cristalli, quelli che vanno in modo adesso, insomma, quelli trasparenti, ecco, che devono essere puliti tutti i giorni. Quindi, per ricordarci di pulirlo tutti i giorni dopo aver fatto la doccia, abbiamo comprato questo bellissimo aggeggio con il suo gancetto. Chissà se lo useremo. Voi cosa dite? Lo useremo? Cambieremo le nostre abitudini? Certo! Of course! Adesso, prima di spostarci al famoso miscelatore della cucina, vi parliamo un po' di testing. Quindi, Manto è sul cellulare e faccio vedere quanto abbiamo pagato. Allora, noi abbiamo comprato il rubinetto del lavabo, il rubinetto del bidet e il miscelatore della doccia, tutto insieme, come papiscio unico, e abbiamo pagato un totale di... Il kit, lavabo canata, bidet, il tasso doccia e gli avviatori e gli acusti, per un prezzo di 134,34 euro. Poi, per quanto riguarda invece il sifone, quindi quello che va sotto il lavandino, abbiamo speso? 26,10 euro. Meno di così. Facciamo vedere la top elata. Per quanto riguarda invece il sifone della doccia, che misura quindi... 30 centimetri di diametro. 30 centimetri di diametro. E abbiamo pagato... Abbiamo pagato la bellezza di 46,70 euro. Un po' di più. Diciamo che ci ne erano di più come Danieli, però noi lo avevamo un bello gravabile, perché così a noi ci riempie la controlla la doccia. E il suo braccio, quindi questo. Quanto mi ha pagato? Per un brazzo di 16,20 euro. Ok, quindi abbiamo detto della doccia, ci mantiene il telefono. Il telefono che è qui, questo qui, con il suo tubore, la prima, insomma, sempre finato in assaglio Linux. Quanto abbiamo pagato questo? 28,80 euro. 28,80 euro. Perfetto, direi che abbiamo detto tutto, giusto? No, ma anche la parte più importante di chi è? La cucina. Ma Danna! La torre della cucina. Ma che pulisci dentro? Ah, il pulisci dentro. Pulisci dentro, l'abbiamo pagato. Senta il mio ciali Linux, è molto bello. Senta il mio ciali Linux, questo che vedete è formato. L'abbiamo pagato 9 euro. 9 euro. Allora, per quanto riguarda la cucina, uscirà a breve un video dedicato, appena c'era molto noè, super super bella. Se non volete perdermelo, ricordatevi di iscrivervi, e anzi, aiutare la campanella. Quindi, parliamo del miscelatore, allora, vi diciamo intanto, che inizialmente, volevamo prendere, un miscelatore della Franche, perché avevamo visto, un'offertura super Ivaria. Era un monumento classico, con la pacca staccabile, in modo tale da poter lavare la vasca, perché avremmo una vasca, di 90 secondi, in tempo. Tuttavia, l'avvio l'abbiamo fatto, e meno male, perché alla fine, abbiamo scelto questo infinito, che è, nelle ruote le ne le abbiamo pagato, 100 euro. 94 euro. 94 euro. 94 euro. È il nostro volumitro americano, che adesso va molto di moda, e noi ci piace. Quindi, il miscelatore staccabile, che quindi, si può utilizzare per lavare tutta la vasca, insomma, è stupendo. Sì, per mettere il Cesare, il nostro puzzolo di foca dentro, dentro, questo lo vale. Mi piace? Quindi, per questo video è tutto. Se siete arrivati fino a questo punto, non ci resta, che ringraziarvi. E, ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti